Sarà inaugurato il prossimo 12 dicembre, sarà un fiore all'occhiello del quartiere annunziata, firmato il provvedimento di agibilità per il nuovo auditorium del Centro Socioculturale di Via dei Pioppi, rimesso a nuovo e pronto per l'utilizzo in vista delle prossime festività natalizie, quando dovrà ospitare alcune delle manifestazioni inserite nel calendario di Giulia 20, in programma il 18, il 21 e il 22 dicembre prossimi. La struttura è ora dotata di 224 posti a sedere e si presta all'organizzazione anche di spettacoli teatrali. All'interno dell'immobile sarà accolta anche la sede del Centro Anziani dell'Annunziata. Siamo giunti al traguardo di questi due obiettivi che c'eravamo posti come amministrazione comunale e come anche assessorato al sociale, quindi stiamo proprio alle ultime battute d'arrivo per quanto riguarda il contratto per il Centro Anziani del quartiere Annunziata e anche per quanto riguarda l'apertura del Centro Polifunzionale che a breve avrà la sua agibilità. Infatti nel calendario delle manifestazioni abbiamo già inserito degli eventi che verranno svolti lì. Avremo sicuramente l'accortezza di fare due inaugurazioni per invitare tutta la popolazione a partecipare. Nei giorni scorsi gli operai della Giulianova Patrimonio hanno eseguito gli interventi di manutenzione esterna. Avevano anche scoperto la presenza di un bivacco realizzato da una coppia di stranieri senza fissa dimora. L'area alla fine è stata completamente ripulita.